alla partenza di questa nona edizione c'è anche matteo montaguti una passeggiata ma impegnativa sempre comunque più che passeggiata la chiamerei un buon allenamento perché vista l'altimatria insomma conosco bene queste salite non le vengo a fare spesso da solo quindi ho preso la palla al bazzo siccome siamo in tanti ho detto al massimo li faccio trasportare un gruppetto che va alla mia velocità lo troverò quali sono i tuoi prossimi obiettivi di questo 2018 si il prossimo obiettivo il più vicino è il campionato italiano a fine mese a darfobuario e poi dopo vedremo di preparare al meglio il finale di stagione probabilmente con una bella vuelta di spagna ciao